Mister Sambaldi in buona compagnia, visto che l'ha detto a me, lo dica anche il nostro microfono. Chi abbiamo qui di fianco? Noi abbiamo la categoria, voi cosa siete? Pulcini 2002. Pulcini 2002 della Roianese che oggi si sono prestati a fare la catapalle, per cui un grazie alla società roianese e a tutti i ragazzi che si sono penso divertiti una giornata diversa dal solito. Insomma una bella emozione, oltretutto per una partita, adesso parliamo di campo, che ha visto una triestina trovare tre punti sofferti, diciamo meritati per quanto creato, in attesa di un gioco più spumeggiante, teniamoci la vittoria che va benissimo così. Credo, io ho paura che sia il DNA di questa squadra dover far soffrire fino all'ultimo i tifosi. Oggi credo che con questo nuovo modulo abbiamo fatto più occasioni del solito, certo che dobbiamo essere un po' più cinici perché il primo tempo abbiamo avuto tre palle gol limpidissime e credo che se facciamo gol lì la partita finisce con un risultato rotondo e tutti contenti a dire che siamo fortissimi. Queste squadre vengono qui a difendersi come giustamente ha fatto la Maranese, con i denti e finché non gli fai un gol loro non vengano fuori. Dopo aver fatto il gol infatti non è stato un caso che abbiamo sfiorato per due volte il doppio vantaggio perché loro sono usciti un attimo e veniva fuori la nostra qualità. Mi è piaciuto molto l'ingresso di Paolucci che ha dato sicuramente un po' più sprint al centro campo che erano come sempre un po' troppo lenti e faraginosi nel girare palla mentre Paolucci ci ha dato quella profondità con quei lanci che hanno tagliato il campo anche se i due esterni poveri, i nostri giovani, non avevano quasi più gamba però devo dire che è andato l'anima Hasler è la prima partita a 90 minuti anche se ha giocato 80 a Tolmezzo e Marcuzza ha fatto 90 minuti e deve crescere anche lui però ha fatto vedere le cose e ha anche dimostrato di avere grande cuore. Comunque non solo dal punto di vista del risultato anche se la prestazione non è stata entusiasmante pur arrivando a questo successo nel finale è un passo avanti deciso rispetto a Tolmezzo? Secondo me sì, a livello di giochi e di occasioni sì chiaramente ancora dobbiamo fare di più abbiamo fatto una settimana, quattro giorni di movimento per questo nuovo modulo che è un po' diverso però mi sembra che la squadra sia stata abbastanza coperta quando doveva difendersi si riusciva a difendere bene certo in primo tempo abbiamo dovuto lasciare qualche volta purtroppo Viannello sull'uno contro uno questo è il rischio però d'altronde qua Rocco noi qualche rischio dovevamo prendercelo se vogliamo arrivare in fondo a questo campionato in maniera importante Poi sì, non è un mistero che tutte le squadre che verranno qui giocheranno più o meno come ha fatto la Maranese chiusa in trincea con magari un paio di attaccanti abbastanza veloci o comunque con un po' di corsa sugli esterni provando a sfruttare i pochi contropiedi a parte due punizioni la Maranese ha avuto quella occasionissima con il tiro proprio poco prima del gol di Franciosi e poco altro Certo, certo io devo dire a fase difensiva sono contento sia come abbiamo fatto a tre e anche a quattro perché poi ci siamo messi, quando è entrato Paolucci ci siamo messi tornati a quattro invece che a tre e uno davanti alla difesa abbiamo giocato una sorta di 4-1 e poi per il resto secondo me mi è piaciuto anche il piglio con cui sono entrati sia Paolucci che Venturini e anche da rossa che solitamente era quello un po' più morbido un po' più sotto accusa povero rispetto agli altri però ha fatto vedere delle belle cose un peccato, una bellissima azione che abbiamo fatto un gol che mi piacerebbe rivedere perché penso che sia stato regolare onestamente però insomma l'arbitro purtroppo ha sempre ragione per cui noi tanto ci teniamo questi tre punti restiamo a tre punti della vetta e andiamo avanti così a lavorare che ne abbiamo bisogno Questo forse è il segnale più importante anche da dare all'Unione Fincantieri-Monfalcone la Triestina in attesa di trovare gli automatismi al 100% è comunque sempre lì e non intende mollare Assolutamente proprio noi non molleremo mai fino all'ultimo finché avremo proprio l'ultimo fiato in gola e non è un caso credo che siamo stati gli unici a riuscire a pareggiare con loro a mettere in difficoltà e forse nel finale magari meritevamo forse noi qualcosa in più però insomma le partite sono tutte diverse una dall'altra noi ci teniamo questi tre punti e andiamo avanti a lavorare che ci aspettano adesso delle nuove sfide ce la godiamo oggi e già da domani mattina pensiamo alla Manzanese che sarà una trasferta brutta visto l'ultimo ricordo ancora fresca la ferita di tolmezzo non è rimarginata per cui dobbiamo dobbiamo rimboccarci le maniche e capire come giocare anche fuori non con tutto questo stadio che ci esalta di più ma anche con un po' più di umiltà ecco dobbiamo essere più lavoratori con più voglia oggi mi sembra che c'è stato un passo avanti sotto questo aspetto come voglia come intensità come corsa per cui però dobbiamo crescere crescere di partita in partita questo domando alla squadra comunque è un ottimo un ottimo segnale un ottimo inizio anche perché le occasioni sono state create poi ovviamente quando si fa fatica a sbloccare la partita subentra anche un po' la fretta la foga e capita qualche errore di troppo certo hai detto bene abbiamo avuto tre palle pazzesche di cui proprio ma parliamo di giocatore solo davanti al portiere non siamo riusciti a fare gol e sappiamo che quello è decisivo la squadra poi come passano i minuti la squadra avversaria prende coraggio si chiude ancora di più diciamo noi invece diciamo non è che ci scoraggiamo però la vittoria oggi è forse arrivata proprio dai ragazzi freschi che sono entrati dopo che hanno fatto veramente oggi la differenza come glielo chiedo sempre allora aspettiamo la risposta di tutti di chi sarà titolare e di chi entrerà a partita in corso a Manzano insomma che sarà un clima da battaglia questo è poco ma sicuro certo noi siamo 20 titolari praticamente per cui ci sono titolari anche qualcuno che magari non è convocato a Manzano serve andare lì con la testa e l'umiltà giusta perché dobbiamo fare una battaglia sportiva chiaramente parliamo sempre di cose sportive ma fare una battaglia e tornare indietro con tre punti noi dobbiamo andare su tutti i campi con la voglia di fare i tre punti questo deve essere nel DNA della Triestina se con i due attaccanti larghi liberi il tiro di Franciosi fosse finito fuori il mister Sambaldi come avrebbe reagito? avrebbe risultato forse al triangolo dopo che abbiamo fatto gol perché penso che ce lo meritavamo insomma poi sono contento anche che facciamo gol sempre nella curva nella curva Furlan per cui i tifosi hanno potuto gioire veramente con tutta la squadra quella è sempre una bella cosa segnare sotto la Furlan assolutamente penso sia il sogno di tutti mi piacerebbe anche a me fare un bel gol lì ok allora in attesa di far gioire di nuovo la Furlan aspettiamo anche con grande attesa di poter gonfiare la rete anche lontana da questo stadio chiaramente anche a Manzano vogliamo gonfiarla e tornare con i tre punti in maniera più convincente grazie mister grazie a voi grazie benedissimo saluta a te ciao saluta la mano